Neanche coi moderni, non voglio dilungarmi troppo in questa parte iniziale, ma vorrei sintetizzarla in alcune voci, la prima delle quali è di un grandissimo storico inglese, Edward Gibbon, alla fine del Settecento, è un classico, potremmo dire, oltre che è un grande libro di lettura, storia della decadenza e caduta dell'impero romano, che più e più volte torna su Augusto e il giudizio che egli formula, merita che io lo legga, il devoto rispetto di Augusto per la libera Costituzione che aveva egli stesso distrutto. Non si può spiegare che con un attento esame di questo sagace tiranno, una mente fredda, un cuore insensibile, un animo codardo, gli fecero prendere all'età di 19 anni la maschera della ipocrisia, che non depose mai più. Con la stessa mano e forse con lo stesso spirito sottoscrisse la proscrizione di Cicerone e il perdono di Cinna. Le sue virtù, come pure i suoi vizi, non erano naturali. E nel proprio superiore interesse fu prima il nemico, poi il padre di Roma. Un giudizio, direi, totalmente stroncatorio, molto incentrato sulla figura morale. Questo giudizio, diciamo così, ha una radice nelle letture, essenzialmente tacito, naturalmente, che Gibbon, grandissimo lettore, aveva fatto, e ha influenzato un filone storiografico che arriva fino a un grande storico del Novecento, Ronald Syme, Baronetto, a un certo punto, Sir Ronald Syme, autore di un libro celebre, che ha anch'esso di grande piacevole lettura, La Rivoluzione Romana, Roman Revolution, che esce a Oxford nel 39, è stato scritto un po' prima, e che è stato un gran problema storiografico. L'atteggiamento di Syme riguarda Augusto, naturalmente, ma è tutto esplicitamente riferito alla situazione presente dell'Europa in quegli anni. Quindi, la terminologia che lui adopera è allusiva, la marcia su Roma, eccetera. Pax et Princeps, Tota Italia, sono i titoli di alcuni capitoli di questo libro. E Syme, nel solco di Gibbon, potremmo dire, è una voce fortemente critica, o senz'altro anti-Augustea. L'altra linea, invece, sempre in questo caso nella storiografia britannica, come vedete Gibbon, Syme, e di mezzo ci mettiamo un notevole storico, Charles Worth, che è la voce opposta, le sante menzogne. Grandissimo politico, che fa forza, in certo senso, alla sua stessa coscienza morale, avendo in mente un grande obiettivo. Quindi, tutto quello che egli fa si può giustificare, si può comprendere, anche la manipolazione massiccia della pubblica opinione, dell'addomesticamento della cultura, la freddezza con cui ha giocato gli alleati, dismettendoli senza problemi, le sante menzogne. E non è, come dire, trionfale come risultato per un uomo che però ha rappresentato, alla fine, la durevolezza della soluzione politica del Principato. E allora, a questo punto, conviene fare un salto cronologico, non spericolato, ma che ha un suo senso, per considerare retrospettivamente la carriera di quest'uomo. Ancora una volta facciamo capo ad un testo al quale ho fatto riferimento prima, e cioè gli annali di Tacito. Gli annali di Tacito cominciano con un quadro, un panorama dell'ultimo tempo di Augusto, e già nel capitolo 7-8 della nostra partizione in capitoli del primo libro si parla dei funerali di Augusto, della cerimonia complessa che si svolge lungo tutto il tragitto. Il feretro viene portato da Nola, dove lui è morto, a Roma, attraverso ali di folla, poi arriva in Senato una vera e propria delegazione, cioè Tiberio e i figli, Druso, che recitano davanti al Senato il testamento di Augusto, le res geste e il breviarium dell'impero, tre rotoli fondamentali di cui abbiamo le res geste e non abbiamo gli altri due. La seduta senatoria viene descritta da Tacito minuziosamente, viene descritta la scena dei funerali, quello che viene detto pro e contro Augusto nel vivo della cerimonia funebre, e poi l'esordio di Tiberio, ormai successore designato. Sono pagine fondamentali dal punto di vista della psicologia, del potere, dal punto di vista artistico, naturalmente, e ci si può domandare come Tacito conosca così nel dettaglio quelle ore, quei minuti cruciali in cui si svolge la seduta senatoria e poi le cerimonie successive. Tacito, vi ho detto prima, vive tantissimo tempo dopo, certamente negli annali ormai saremo sotto al passaggio da Traiano ad Adriano probabilmente, perché c'è un libro di Saim molto importante su Tacito, che è il suo autore in certo senso, in cui si suggerisce che la successio, il passaggio da Augusto a Tiberio, molto sofferto, Augusto non amava moltissimo questo figlio adottivo, figlio in realtà di Livia, che lui aveva sposato in un certo momento, ma Livia gliel'ha saputo imporre, anche perché altri successori designati sono via via morti, con una certa cadenza che può anche suscitare sospetto, evidentemente. l'assassinio politico fa parte della prassi, diciamo, del potere in tutte le epoche, ma in questa in particolar modo. Lui ha probabilmente raffigurato il passaggio ambiguo da Traiano ad Adriano, anche lì c'è una plotina che incombe perché Adriano subentri. È probabile che abbia ragione Saim nel dire che è modellato sul passaggio da Augusto a Tiberio. Comunque, oltre un secolo c'è di mezzo, ci sono gli Acta Senatus, naturalmente, quindi certamente gli Acta Senatus erano una fonte importantissima, e poi c'era tanta storiografia per noi perduta che di questo largamente si occupava, magari con spirito di parte. Fatta questa premessa, la scena, l'ho già detta, Augusto, che ha provveduto minuziosamente al suo, come si usa per chiamarlo ora, fine vita, minuziosamente, anzi quando muore, lucido fino all'ultimo, racconta Svetonio, che anche gli dispone di fonti di primo ordine, ha voluto farsi pettinare, ha voluto farsi bello, ha chiesto ai presenti ho recitato bene la commedia, citando dei versi, forse da un poeta comico, aveva la sua eccellente cultura, diciamo classica, il repertorio greco e latino gli era ben noto, è una domanda inquietante, ho recitato bene la commedia, getta quasi una luce non favorevole su questa grande opera che egli ha compiuto, di costruzione di uno stato dopo un secolo di guerre civili, cosa che spesso si dimentica. Oltre a ciò, nell'ultimo tempo, ha continuato a limare le resgeste, aggiornandole via via, a completare il breviarium dell'impero. Questo breviario addirittura descrive non solo tutte le truppe di cui l'impero dispone nelle varie province, lo stato delle finanze, dell'erario e del fisco e ci aggiunge anche quali sono i liberti ai quali chiedere conto dell'esattezza di quei conti. Quindi, lasciamo perdere il feroce tiranno e va bene, ma certamente una mente capace di considerare l'amministrazione dello stato in ogni suo aspetto con una serietà e uno scrupolo che tutto sommato noi vorremmo vedere riproporsi nel tempo. Però ogni epoca ha i suoi problemi. La scena, ripeto, è che Livia ha assistito fino all'ultimo e ha consegnato alle vestali, al collegio delle vestali, questi tre rotoli contenenti i tre testi che ho detto. Lui è Pontefice Massimo, Pontefice Massimo è una carica importantissima, politica. Cesare è una carica elettiva, fra l'altro. Cesare si è fatto eleggere, ha fatto una bella campagna elettorale per diventare Pontefice Massimo, rischiava di rovinarsi economicamente, uscendo di casa e disse alla madre Torno o in galera o Pontefice Massimo. Tali e tanti erano i debiti che aveva accumulato per vincere la campagna elettorale, stante che le campagne elettorali allora ed ora si vincono tramite questa intensa utilizzazione delle risorse economiche. Però è una carica vitalizia per cui Pontefice Massimo resta in carica finché muore. Nel disordine dell'uccisione di Cesare Augusto lo segnala nelle resgeste l'epido un personaggio tutto sommato di seconda fila che però è uno dei tre triumviri nel 43 e poi anche nel rinnovo del triumvirato nel 37 occupa la carica di Pontefice Massimo. Augusto lo detesta gli toglie anche le truppe dopo la guerra con Sesto Pompeo accusandolo di essere stato ambiguo nel conflitto nella guerra tremenda con Sesto Pompeo ma non lo depone da Pontefice Massimo perché sa che a Roma il Pontefice Massimo deve morire nel suo letto. Finalmente nel 12 muore questo lepido e lui diventa Pontefice Massimo in quanto Pontefice Massimo le vestali sono il collegio di riferimento. Quando nel 43 nell'agosto del 43 lui ha voluto imporre la propria candidatura al Consolato appena diciannovenne quasi ventenne e nel Senato molte forze ostili a lui volevano impedire questo e tentavano lo racconta a piano cioè lo racconta lui nelle sue memorie di catturare le sue donne cioè la madre e la sorella come ricatto per impedirgli questo colpo di Stato che poi in realtà ha attuato sia pure con una parvenza di legalità saggiamente egli ha fatto nascondere sorella e madre presso le vestali che sono un collegio che nessuno può osare di violare neanche le truppe del Senato o dei consoli in carica in quel caso erano morti tutti e due è importante aver di mira e tenere sott'occhio la rilevanza del sacro nella politica romana che è la ragione per cui quando nelle feste nei ludi in onore di Cesare appena ammazzato siamo nel luglio del 44 appare una cometa e Ottaviano nonostante l'opposizione di Antonio impone che questi ludi si svolgano con la massima solennità immediatamente coglie l'occasione per dire un segno divino significa che Cesare è salito in cielo e è diventato divus cioè Dio e io modestamente sono Divi Filius diventato console impone al Senato di sancire che Cesare è effettivamente diventato Dio e da quel momento in avanti Divi Filius è un epiteto ufficiale che gli consente di condurre tutta la sua azione politica fino ad Azio nel nome della vendetta del padre ucciso del parricidium ecco il sacro il sacro ha un'importanza enorme quindi consegnare alle vestali i tre rotoli significa metterli non dico in una cassaforte blindata ma molto di più questi tre rotoli vengono tirati fuori solennemente e letti davanti al Senato chi li legge non Tiberio ma il figlio giovanissimo druso come comincia il testo delle resgeste a 19 anni ho raccolto a spese mie privata in pensa e per mia decisione privato consulto un esercito quindi un esercito privato col quale Rem Publicam ha dominazione faczioni soppressam in libertatem vindicavi con cui ho salvato